L'Università di Foggia informa che il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ha respinto due distinti ricorsi presentati avverso altrettante procedure concorsuali per la nomina di due professori associati. Con decreti entrambi datati 24 maggio 2018, il TAR Puglia ha respinto i ricorsi avverso la nomina professore associato di diritto dell'economia nel Dipartimento di Economia della professoressa Lia Robustella, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La nomina sempre professore associato di ginecologia e ostetricia nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del professor Luigi Nappi. Entrambe le procedure concorsuali sono state ritenute legittime pienamente rispondenti agli adempimenti previsti dalle normative vigenti. L'Università di Foggia, oggi come ieri, resta fiduciosa nell'operato della magistratura. Fanno sapere da Palazzo Ateneo sia amministrativa sia ordinaria e coglie l'occasione per augurare buon lavoro ai docenti la cui nomina è stata riconosciuta legittima, così come i lavori delle commissioni esaminatrici esenti da qualsiasi voglia di vizio e censura.